che lo si voglia o no abbiamo soltanto tre alternative il passato il presente il domani e neppure tre perché come dice il filosofo il passato è passato e ci appartiene solo nel ricordo a quella rosa che si è ormai sfogliata non si può domandare un altro petalo le carte da giocare sono soltanto due il presente e il giorno di domani e neppure due dato che è un fatto ben consolidato che il presente non esiste se non nella misura in cui si fa passato e ormai passò come la gioventù tirando le somme ci rimane soltanto il domani io alzo il mio bicchiere a questo giorno che non viene mai ma che è l'unica cosa della quale realmente disponiamo a